Silenzio! Il titolo me l'ha ispirato ieri sera al papà. Questi primi 60 anni, giusto? Il papà ha insistito su questo concetto. È tutto qua, in questa cornice, il vostro e il nostro mondo. Quello che si vede è quello che si legge solo con il cuore. Bene, chissà se quel giorno del primo sì avete pensato anche solo per un attimo a questo traguardo. A sei figli e decine di nipoti, tutti qui, vivi, più o meno in salute. Più o meno. 60 anni d'amore, di volersi bene in modo diverso, ma con la stessa intensità. Anche oggi risuoni a festa il vostro Voglio Amarti Così. Ora puoi attaccare a cantare. Auguri!